Non sono ancora le 15 e già siete fuori, com'è andata? Bene, dai, bene. Quale traccia hai scelto? L'analisi del test di Calvino. I professori come sono stati oggi? No, disponibili, ci hanno anche aiutato, quindi è bene. Anche tu hai consegnato prima il tema? Sì, sì, sì. Preoccupazioni invece? Per la terza prova. È il primo, il più grande esame della vita, quello di maturità. Una prova, anzi quattro, compreso l'orale da affrontare completamente da soli. Soli al banco, soli con il vocabolario come unico conforto, soli con la penna in mano e la speranza che arrivi l'ispirazione. Per i 500.000 studenti italiani, di cui quasi 13.000 marchigiani, è arrivato il grande giorno. Questa mattina è stata la volta del tema, domani toccherà la seconda prova e lunedì si chiuderà con il quizzone. Ragazzi, questa notte avete dormito? Sì, tranquillo. E invece hai altre preoccupazioni, ad esempio per domani oppure per la terza prova? Per domani sicuramente, è finita la seconda prova e è finito l'esame. L'ultimo ripasso quando l'hai fatto? Ieri sera, ma un po' così perché era il tema, però domani sono più preoccupata per domani. E questa mattina sveglia a che ora? Sette. Quindi molto presto? Sì. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Grazie, prego. A chi stai contattando subito dopo l'esame? A casa? Mia madre che è andata al lavoro. Come è andata? Quali tema hai scelto? Ho scelto l'articolo di giornale, quello lì sulla tecnologia, la comunicazione. In generale come ti sono parsi? Difficili o abbastanza fattibili? No, fattibili dai, abbastanza fattibili. Vi aspettavate qualcosa, qualche traccia? No, sinceramente sì, c'era la traccia sul Mediterraneo collegata al razzismo, quella lì si poteva aspettare, se no... bene così. Per domani invece torni a casa, già ti rimetti allo studio oppure relax? No, 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 studio, studio. La traccia scelta? Io ho fatto tecnico-scientifico, l'analisi, cioè l'articolo di giornale. Domani invece che cosa vi aspetta? Terrore. Matematica, matematica è dura, è difficile e noi ce la mettiamo tutta e speriamo che vada bene. In bocca al lupo. Creppi. La preoccupazione l'ha fatta da padrona o invece siete riusciti a rimanere ben concentrati? No, è stato abbastanza tranquillo alla fine, non è stato niente di così difficile, ecco. Gli insegnanti invece vi hanno aiutato in qualche modo? No, non particolarmente, però comunque non ci hanno messo, insomma, l'ansia, ecco. Questa mattina a che ora è suonata la sveglia? Alle 7.20. Per ripassare oppure sei venuta qua direttamente? No, no, sono venuta qui direttamente. E come è andata? È andata bene comunque, quindi sono contenta. La prima traccia proposta agli studenti è stata quella dell'analisi del testo del brano Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. La resistenza come argomento del tema di storia, immigrazione, letteratura e le sfide del XXI secolo, quelli scelti per i saggi brevi. Nel tema di attualità invece un testo della 18enne pakistana Malala, per riflettere sul diritto all'istruzione, partendo dalla citazione del premio Nobel per la pace, un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. I maturandi questa mattina a che ora sono entrati nelle aule? 8 e 30 precisi. Poi hanno dovuto controllare per l'esame di Stato necessariamente la carta d'identità. Poi dopo è stato scaricato il plico telematico attraverso una chiave di critografia pubblica che viene pubblicata dal Ministero intorno alle 8 e 30. in realtà è arrivata a quei 5-7 minuti dopo il tempo di stampare, fare tutte le copie perché ciascuna traccia era su 6 fogli. Quindi 6 fogli per candidato, i candidati in totale 138, quindi 138 per 6, tutte le fotocopie. Distribuzione delle fotocopie, alle 9 circa i candidati hanno potuto iniziare. E domani si torna sui banchi per la seconda prova, quella specifica per ciascun indirizzo. Genitori che aspettano con ansia i propri figli? No, senza ansia, solo che è a piedi quindi sono uscita dall'ufficio e vengo a prenderla. Ecco, invece sua figlia o suo figlio chi ha qua? Mia figlia, in classe con la figlia della signora, aspettiamo. Ricordate invece quando l'avete sostenuto voi l'esame di maturità? Sono stati un po' troppi anni, comunque sì, forse molto più ansiosa. Comunque bei ricordi oppure meglio non ripensare? Sì, legati alla gioventù, quindi sicuramente belli. E ieri sera era preoccupata? Preoccupata di più, perché stamattina sì, no da me molto, molto agitata. E da mamma quale consiglio gli ha dato? Io nessuno, perché tanto ero più agitata di lei.